Buongiorno a tutti, bentornati su FDFanta, oggi video in solitaria per parlare un po' di questa Italia-Turchia, le mie impressioni Prima di tutto vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere anche un video Lasciare un like, un commento, in descrizione, le pagine social Bene, iniziamo Che dire, partiamo dai nostri avversari Sicuramente non mi aspettavo una scelta tattica turca di questo genere Cioè la Turchia si è messa in otto giocatori nella propria area di rigore E hanno lasciato il gioco in mano a noi Mi aspettavo un atteggiamento diverso, un approccio diverso sicuramente Una... a meno idea di costruzione di gioco Cosa che non è stato Non c'è stata E nonostante la Turchia comunque ha giocatori da un buon livello tecnico, assolutamente C'erano Oglu, Yazici, Tufan E... Male, male C'era quel burac in mazzo da solo lì davanti Che... che doveva fare E quindi ha un po' sacrificato i giocatori tecnici A fare più la fase di non possesso E contro una squadra come l'Italia Se ti chiudi così prima o poi l'episodio arriva A un certo punto del primo tempo io stavo bestemmiando Perché ho detto cazzo Se continuiamo così Può subentrare il fattore psicologico Nel senso ti puoi innervosire, no? Noi italiani Perché comunque abbiamo costruito Loro hanno fatto zero tiri in porta al primo tempo Noi avevamo un possesso palla del 63% Una cosa del genere Però... Facevamo fatica, no? Nel senso... Costruivamo ma la palla non entrava Non si creavano occasioni proprio Da gol nitide Allora ho detto Adesso sicuramente subenterà il fattore nervosismo Perché ti abbattino e frustrante Invece siamo stati bravi a non perdere la testa Non innervosirci Nonostante un arbitraggio ragazzi scandaloso Perché l'arbitraggio è stato scandaloso Infatti io dico Italia contro Turchia più Olanda Che l'arbitro olandese E anche i suoi assistenti 3-0 Comunque era al fine arrivato l'episodio Della otto gol di Demiral Che ha sbloccato la partita Dopo quel gol lì La Turchia ha dovuto in qualche modo Cercare di aprirsi un po' di più E quindi quando abbiamo fatti altri due Poteva tranquillamente finire Anche più di 3-0 Prestazione dei nostri Veramente buona Veramente buona Mi sono piaciuti Un sacco spinazzola Penso che forse è migliore in campo Insigne gigantesco Berardi Immobile Che ha fatto un bel gol Secondo me Sembra stupido quel gol ma non lo è Giorginio Giorginio ragazzi Non lo si vede tanto Ma fa un lavoro eccezionale Chiellini immenso Immenso Se poi potete trovare qualcuno che mi sono piaciuto un po' di meno Sicuramente Florenzi Bonucci Florenzi Mi aspettavo Una spinta maggiore di Florenzi Infatti Quando è entrato poi Di Lorenzo Avete visto come Di Lorenzo su quella cazzo di fascia Andava fino in fondo Cosa che non faceva Florenzi No? Abbiamo creato Superiorità numerica In fase d'attacco Visto che loro erano in 40 dietro Nella propria area E siamo riusciti a sfruttare In quest'Italia Mi piace un sacco Il L'atteggiamento Il carattere L'unione Che ha creato Che ha creato Mancini Veramente ha creato un bel gruppo Unito Si vede che Si trovano E sicuramente Anche il fatto Mi piace Il fatto che Mancini Lascia Libero Estro Dei giocatori Non fanno il compitino Se vogliono cercare Uno contro uno Se vogliono cercare La giocata di tacco Se vogliono giocare Se vogliono cercare La finezza Ecco Lo possono fare Ed è una cosa importante Ragazzi Io porto questo paragone Con la Juve La differenza tra la Juve di Conte E la Juve di Allegri La Juve di Conte Se vi ricordate Aveva Undici soldati Avevano il loro compito Facevano il loro compito Lo facevano bene Si vincevano le partite Eccetera eccetera Poi è arrivato Allegri Che magari Ha lasciato un po' più spazio Appunto all'estero Dei giocatori Quindi Valorizza Di più Il singolo giocatore E sicuramente Un giocatore sta meglio Psicologicamente Quando entra in campo Quindi questa è un po' La forza di quest'Italia Adesso non esaltiamoci Non Non pensiamo che I giochi sono fatti Perché comunque La Turchia Ha avuto un approccio Che io Non capisco Perché Ma ha avuto un approccio Molto chiusa E Non me l'aspettavo assolutamente Noi di FD Fanta Avevamo pronosticato Un 2-1 Pensavamo che almeno Un gol Potevano farlo Forse Quanto meno Un gol Potevano farlo Con i giocatori Comunque Cacciare la Turchia E invece non è stato così Meglio per noi Altra cosa Che dicono tutti L'Italia non ha campioni L'Italia non ha campioni E' vero L'Italia non ha campioni Ma In questi tornei qua In queste coppe Ma non solo Ragazzi Non si vince solo Con i campioni Si vince con la mentalità Con la voglia E con la fame Questo è importante Sì Il campione Ti può risolvere La partita Con un gesto tecnico Con un episodio Con quello che volete Però L'importante Nel calcio Per me E' la mentalità Se c'è mentalità E c'è in campo 11 leoni Anche Anche il campione Più forte Contro di te Avrà difficoltà E sarai sempre tu La squadra da battere Quindi che dire Fatemi sapere Nei commenti Cosa ne pensate Se siete d'accordo Con me Sono curioso Di Di vedere Questo Galles Svizzera Un bel like Se volete Un post partita Anche di Galles Svizzera E delle altre partite Se volete Anche magari Il parere Di Kanta E niente Che dire Mi sono appena svegliato Vado a fare colazione Quindi Ciao a tutti Mi sono appena svegliato